bella a tutti i ragazzi eccoci qui in un nuovo video oggi faremo una recensione su il raudy new scatola da 20 pezzi della tianese 0,15 grammi pagata un euro da questo qua dai cinesi però allora questo qua è un petardo flash da come potete leggere denominazione originale 101 petardo aspetta se metti a fuoco petardo vampiro new denominato raudy new e niente raga ora ve li faccio vedere eccolo qua eccoli qua tappini in gesso classici vediamo un poco le scritte non ci sta scritto il nome sopra però sta scritto tutto quello che sta scritto sulla scatola va beh questo qua sta scritto petardo flash si mette a fuoco però aspettate ecco 0,15 sta scritto qua 0,15 e niente sono usciti da poco credo perché non l'ho mai visti nel mercato e niente faremo un test in un prossimo video mi raccomando mettete like iscrivetevi e niente scatola molto bella ovviamente garfield niente bella a tutti ragazzi ci vediamo in un prossimo video come già ho detto iscrivetevi mettete like e commentate bella